Bentornato in Media Plaza a Guido Bolato, segretario generale della Camera di Commercio di Turino. Lo avevamo detto in fase di presentazione, ma così è davvero. Il mondo è qua, si è riunito molto fitti anche i contatti, molta vita qui a Lingotto. La sua impressione ormai a 24 ore dallo start. Abbiamo avuto una grande giornata ieri, tra le sezioni plenarie e poi le sezioni del pomeriggio che hanno tutte riscosso un grande interesse, hanno fatto tutti i complimenti per il livello dei dibattiti, alcuni seguitissimi, fino alle 6 c'era ancora gente che discuteva e che lavorava. E poi la chiusura in bellezza con il concerto al Teatro Regio dove abbiamo incantato i nostri ospiti con la musica italiana, i brani dell'opera italiana. È stato emozionante vedere come alla fine tutti gli ospiti si siano alzati in piedi per applaudire i cantanti. Quindi davvero abbiamo stupito, credo, i nostri ospiti stranieri con tutto quello che la città può offrire. La giornata di oggi sarà, come al solito, dedicata ai dibattiti, ai lavori del Congresso. Si parla anche di immigrazione, quindi temi molto, molto importanti, di diritti. Verrà anche presentata una carta proprio per quanto riguarda i diritti degli imprenditori. Quindi si va su temi molto concreti, dottor Bolatto. Come sempre il Congresso cerca di essere molto concreto, molto attuale e lavora sui due piani. Da un lato il confronto, il benchmark tra le Camere di Commercio. Già ieri ci sono state le prime presentazioni dei progetti in gara alle giurie. Oggi questo lavoro continuerà e per concludersi poi domani sera con la premiazione. E dall'altro la discussione nelle plenarie, ma anche nei workshop, sui grandi temi di attualità, come appunto oggi quello dell'immigrazione. Domani parleremo di legalità ed economia. Quindi davvero temi attuali, attuali nel nostro paese, ma come vediamo dai livelli del dibattito, attuali in tutto il mondo. Il Sebolatto ha big success for this event. Sì, spero, ma oggi abbiamo parlato con i nostri amici di diverse parti del mondo. Sono molto felici di essere in Torino. Abbiamo piaciuto molto il concerto a Teatro Reggio con l'Opera italiana. E' stato un buon giorno per noi. I hope two days after continues in this way and I hope also that the end of Venaria Reggia would be a great success. E poi a giudicare anche dalla folla che c'è qua in Media Plaza, direi che le cose stanno andando bene anche dal punto di vista della comunicazione. Sicuramente direi, avendo fatto la storia almeno degli ultimi tre congressi, questo è il congresso in cui l'area espositiva è più visitata, è più vissuta. Sarà merito soprattutto anche dei nostri espositori, dei nostri sponsor, sarà il fatto che siamo in Italia e i prodotti italiani attirano sempre. Sarà il fatto che offriamo un buon caffè e degli ottimi cioccolatini, ma è appunto l'area più visitata da sempre nei congressi. Quest'oggi, poi con la serata sala libera, ci saranno i negozi aperti a Torino fino alle 21, quindi sarà un'ulteriore occasione per fare shopping in città e poi le persone si rivederanno nei vari parti delle varie delegazioni che appunto questa sera faranno di tutto per intrattenere, per farsi pubblicità. Sappiamo che c'è il partner di Sydney che presenta l'edizione del prossimo anno, della prossima volta. Bene, sappiamo che anche la sua agenda è fitta, molti incontri, quindi le auguriamo buona giornata e ci ritroviamo naturalmente per nuovi bilanci insieme. A domani, grazie e buon lavoro. Grazie a Dottor Guido Volato, segretario generale della Camera di Commercio di Torino.